Sportello Reclami, oggi siamo al cimitero di Ceciliano, un bel posto per quelli che già vi riposano, sicuramente il nostro signore concederà loro un riposo eterno, tranquillo, come meritano, però poi ci sono per noi vivi che veniamo delle situazioni da segnalare. Lo facciamo con Mary, partito delle Cicale, e con la signora Adriana. Cominciamo dall'esterno perché purtroppo qualche piccola beca c'è sia all'esterno che poi all'interno. Che succede Adriana e Mary? Allora qui siamo in una situazione praticamente un po' di degrado perché se arriviamo nel piazzale del cimitero troviamo la parte della strada asfaltata che finisce e poi il piazzale è lasciato completamente coperto di Iaino. Ci avviciniamo invece verso l'entrata del cimitero, troviamo il cancello che sono più le volte che si blocca, non si apre oppure non si chiude e quindi già lì c'è un altro punto che non va bene. Entrando ancora più internamente cominciamo con la pavimentazione. Andiamo ancora fuori. Adriana, fuori quali interventi sarebbero necessari? L'intervento necessario del cancello perché quando si va a aprire è difficoltoso e molte volte ci si fanno male alle dita per tirarlo, per aprirlo. Per chiuderlo è molto difficile, è lo stesso, perciò penso che avrebbe bisogno di una manutenzione o qualcosa. Magari anche di una riverniciata. La verniciata forse gliel'ha andata ma in qualche modo. E per quanto riguarda invece il parcheggio, siccome oggi sono tutti, siamo un po' poltroni detta la retina, veniamo in auto, anche perché è un po' fuori mano. I parcheggi ce ne sono abbastanza? Sì, sì, come parcheggio va abbastanza bene. E la manutenzione dei parcheggi? La manutenzione del parcheggio è lo stesso, non è che tanto mal andato. Il peggio, il mal andato è dentro il cimitero. Dunque siamo qui all'interno, naturalmente facciamo questo servizio, avviciniamoci in su, con il massimo rispetto. A volte io uso un tono scherzoso in queste segnalazioni, ma qui siamo veramente con i nostri morti e abbiamo il massimo rispetto. Precisato questo, però vogliamo segnalare quelle situazioni di cui abbiamo accennato prima. Infatti la pavimentazione è molto disconnessa. Ci sono dei tratti che sono stati rimessi a posto e dei tratti invece che è quasi impossibile camminare, soprattutto per le persone anziane e soprattutto per persone indicappate che non hanno proprio possibilità d'accesso. Adriano, è mai successo che qualcuno magari in queste connessioni ha inciampato e caduto giù? Il rischio c'è perché purtroppo è come uno specialmente se va con un pochino di tacchi quando arriva. Esattamente, voi signore soprattutto che acciate con i tacchi, ci sono anche altre situazioni, no? Adriano? Ma quando piove purtroppo è ancora peggio perché c'è la graticola, lì la gratelina come si chiama, l'acqua passa poco e si allaga il cimitero. Perciò già è una cosa che non va bene. Purtroppo ci sono delle piccole cose che quando si incomincia ad andare con gli anni si inciampa un po' di più anche, no? E altro che si inciampa... Meno male che ci sono veramente, e lo dico sempre con grande rispetto, i nostri morti che ci guardano. Mary? Allora, c'è un'altra situazione, a parte il vialetto centrale, quello laterale che proprio manca all'astricato, c'è solo di Aino, la parte centrale del cimitero, la cappellina che è proprio lasciata in stato d'abbandono. Qui c'è purtroppo qualcosa di interessante ma in senso negativo, venite, venite, la cappella, la cappella. Che è successo Mary? È successo un episodio in cui sei stata testimone diretta? Qualche tempo fa mi sono imbattuta in un serpe di grosse dimensioni che usciva proprio dalla cappella e chiesi io l'intervento alla Multiservizi per poter evitare questi incontri un po' particolari. Specifichiamo l'utilizzo che dovrebbe avere questa cappella, insomma. Esatto, la cappella dovrebbe avere l'utilizzo per le messe qualora il parroco di Ceciliano ritenga opportuno farcele oppure dovrebbe servire, è un termine brutto da usare, da deposito in caso non si possa ovviare a... Insomma, di attesa per i morti quando ancora non è pronta la tomba o la fossa per terra. Certo, per questo motivo. E quindi, in ogni caso, essendoci sempre come soggetto principale i nostri cari defunti va tenuta in condizioni estremamente decorose, direi. Ci vorrebbe più rispetto per questo, perché il decoro almeno per i nostri cari che purtroppo ci lasciano. Beh, insomma, trattandosi di cimiteri dei nostri cari trapassati, defunti, il cui ricordo è sempre ben impresso qui nella mente di tutti, ci pare opportuno fare questa segnalazione. Concludiamo qui questo sportello reclami. A te, Alex, la segnalazione a chi indirizzarla è roba tua.